Poracci benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi passeremo in rassegna alcuni degli sconti più interessanti presenti sull'eShop di Nintendo e come al solito si tratterà di un vero video poraccio perché ho selezionato per voi delle vere e proprie perle nascoste, delle hidden gem a un prezzo stracciato. Se siete interessati a sconti su giochi e accessori fisici mi raccomando ricordatevi di entrare nel gruppo telegram delle offerte poracce e se siete curiosi di vedere un po' del gameplay di giochi di cui adesso parleremo, vi aspetto questa sera alle 21.30 su Twitch in live per provarli assieme. Iniziamo! Partiamo con Blazing Beaks, un roguelike scontato a solo 1,99€. La formula è quella classica popolarizzata dai più noti esponenti del genere come The Binding of Isaac ed Enter the Gungeon. Con quest'ultimo, Blazing Beaks è in comune una veste grafica in pixel art molto ispirata che dona vita a degli ambienti colorati e dinamici. Quali sono i punti di forza di Blazing Beaks? Beh, oltre alla possibilità di poter impersonare diversi tipi di pennuti, ognuno con le sue abilità e caratteristiche, il gameplay basato su un dungeon crawl procedurale con elementi di balle e tell si distingue per una particolare meccanica che aggiunge un livello di strategia per nulla scontato. Sostanzialmente, ogni volta che sarà ripulita una stanza, al giocatore sarà data l'opportunità di raccogliere un artefatto. Questi elementi avranno prevalentemente attributi negativi, che renderanno l'esplorazione e la sopravvivenza molto più difficile. Si parla di malus come statistiche dimezzate o incapacità di raccogliere gettoni e via dicendo. Una volta entrati in un negozio, però, sarà possibile scambiare questi artefatti per dei power-up in grado di dare dei bonus consistenti, sia attivi che passivi. Non potendo sapere quando si avrà accesso al prossimo negozio, la strategia sta tutta nell'assumersi il rischio o meno di prendere quanti più artefatti nella speranza di poterli presto convertire in oggetti a nostro favore. C'è poi la possibilità di personalizzare il proprio arsenale e scegliere tra biforcazioni all'interno dei dungeon e gli immancabili boss di fine livello. Ma è la meccanica degli artefatti ad elevare Blazing Beaks dalla media di roguelike. A questo prezzo un acquisto che vi consiglio ad occhi chiusi. Saliamo un po' di prezzo e passiamo ad Olly Olly, alla cifra esorbitante di 2,99€. L'edizione presente sulla console ibrida è la Switch Stance, ovvero una mini raccolta che unisce Olly Olly e il suo seguito, Welcome to Hollywood, due giochi che sono un ibrido tra un platform a scorrimento laterale, un endless run e un gioco di skateboard. La struttura a livelli ricorda infatti i primi capitoli di Tony Hawk Pro Skater. Al giocatore sarà richiesto di eseguire trick ed acrobazie concatenate all'interno di articolate combo per far salire il proprio punteggio. Ogni stage, dalla brevissima durata, presenterà degli obiettivi specifici come eseguire determinati trick o chiudere delle combo particolarmente elaborate. C'è qualcosa di estremamente assuefacente nella semplice formula di Olly Olly e il suo seguito e in parte è dettato dalla semplicità del gameplay, dall'altra dall'ottimo level design. Si tratta infatti di un'esperienza che potrà portarvi via parecchie ore, soprattutto nell'ottica del perfezionamento dei propri punteggi in cerca sempre della run perfetta. Aspettatevi un trial and error che richiederà una certa padronanza del sistema di controllo prima di essere capito appieno nelle sue potenzialità. Olly Olly è un gioco tutt'altro che semplice e seppur non diventi mai un'esperienza frustrante, i perfezionisti degli high score troveranno sicuramente pane per i loro denti. Passiamo ad un gioco molto più rilassato, Figment, al prezzo di 3,79 euro. Il gioco è un puzzle game in 2.5D che strizza un po' l'occhio agli adventure in stile Zelda, ma che mette in secondo piano la componente action proponendo un combat system solamente accennato. In questo viaggio onirico, dove il compito del giocatore sarà quello di liberare una mente dalla materializzazione di incubi, pensieri negativi e paure, il vero protagonista è l'artstyle. I ragazzi di Bad Time Digital Games, uno studio danese, hanno messo in piedi un'avventura che nella sua brevità è in grado di catturare e avvolgere completamente il giocatore. I fondali dipinti a mano sono ispiratissimi e fanno a gara con la bellezza della colonna sonora, altro elemento che lascia di stucco nella sua perfezione. Certo, ci troviamo di fronte a un gioco indirizzato verso un pubblico giovane, ma l'umorismo che permea tutti i dialoghi di Figment può essere apprezzato da tutti gli utenti, a prescindere dalla loro età, basta che siano in cerca di un'esperienza rilassata e avvolgente. In attesa di un certo baldo, io non mi lascerei sfuggire Figment a questo prezzo. Non potrei mai fare un video consigli senza buttare nel mezzo un metroidvania. Questa volta è il turno di Jack Quest, in sconto sull'eShop a 1,99€. La storia prende il via con il rapimento di Nara da parte di Korg, un orco malvagio. Spetterà Jack, con l'aiuto di una gigantesca spada senziente, il compito di salvare la sua amata gettandosi nell'esplorazione della tana di Korg. Le semplici premesse narrative sono lo specchio di un gioco semplice, immediato e senza pretese. Non ci troviamo di fronte al gioco che rivoluzionerà il genere dei metroidvania, ma di sicuro Jack Quest, The Tale of the Sword, può essere un ottimo punto di ingresso per i meno avvezzi al genere. Questo perché, pur presentando tanti degli elementi tipici dei metroidvania, il gioco tende verso la semplificazione dei tratti più complessi, virando verso un'esperienza comunabile ad un platform più lineare. Per un prezzo così basso, insomma, ci si può fare un'idea di quello che i metroidvania hanno da offrire, senza imbarcarsi in un'avventura dalla durata smisurata o dall'eccessiva complessità. Un ottimo acquisto per i neofiti del genere. Toridama Brave Challenge è in sconto sull'eShop a 3,81 euro. Si tratta di un gioco completamente fuori di testa, che possiamo considerare come l'erede spirituale di WarioWare. Toridama si presenta infatti come una raccolta di 19 minigiochi dall'estetica strampalata, accomunati tutti da una caratteristica. Metteranno alla prova il vostro coraggio. Nelle rapide sfide di gameplay, incentrate solo sulla pressione di un tasto, sarà richiesto di testare le proprie capacità e il proprio coraggio non tirandosi indietro di fronte al pericolo. Che sia il frenare il più tardi possibile prima di cadere in un burrone con la propria macchina o riempire fino all'orlo un bicchiere, Toridama è una rivisitazione allucinata di una prova di coraggio. Se 19 minigiochi possono sembrare pochi, soprattutto in confronto ai fasti di WarioWare, tenete in considerazione che molti di questi hanno un secondo livello di difficoltà da sbloccare e che tutti presentano degli elementi randomici in grado di alterare il gameplay in modo radicale. Toridama è un ottimo party game che metterà alla prova i vostri riflessi e quelli dei vostri amici. C'è anche una leaderboard online con cui confrontare la propria spavalderia con gli utenti di tutto il mondo. Un acquisto obbligato, no? E per finire vi segnalo uno sconto molto interessante, ovvero Panzer Dragoon a soli 6,24 euro. Si tratta del remake di un grande classico uscito per Sega Saturn nel 1995, un rail shooter che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio gioco di culto. Il remake, uscito nel 2020, purtroppo non è stato in grado di impressionare positivamente il pubblico a causa di numerosi bug e un'offerta contenutistica tutt'altro che allettante. Il team di Megapixel Studio ha però ascoltato le critiche dei fan e ora, dopo numerose patch correttive, il gioco si presenta sotto tutta un'altra luce rispetto al lancio disastroso. Per gli appassionati del genere o per chi magari vuole riscoprire una delettante perle nascoste apparse su Sega Saturn, questo sconto è l'occasione perfetta per approcciarsi a un remake che di sicuro non fa gridare al miracolo, ma che ora non sfigura più completamente di fronte al leggendario Panzer Dragoon. E questi poracci erano alcuni degli sconti che secondo me vale la pena prendere in considerazione, in vista soprattutto dei prossimi mesi che si prospettano di fuoco tra Super Mario 3D World, Monster Hunter Rise e gli ipotetici annunci riguardanti la serie di The Legend of Zelda che festeggerà il suo 35esimo anniversario. Come al solito vi aspetto nei commenti per sapere se avete altre offerte da segnalare e se volete supportare il canale vi invito a lasciare un like e a iscrivervi attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Seguitemi poi su tutti i social se avete l'intenzione di diventare dei rialporacci e a me non resta che darvi appuntamento al prossimo video. Io sono il Poros Conti, Michele degli eShop, ciao!